La Toscana torna in zona gialla dal lunedì 26 aprile dopo più di due mesi tra zone rosse e arancioni. A deciderlo è il ministro della salute Roberto Speranza dopo la valutazione dei dati dell'epidemia del monitoraggio settimanale. Incoraggiante i dati della Toscana con un indice RT allo 0,82 e l'incidenza a 176 casi di covid ogni 100.000 abitanti, entrambi al di sotto delle soglie critiche. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha confermato la sua intenzione a non ratificare eventuali zone rosse o arancioni locali. L'indirizzo che ci siamo dati come presidente di regione, chi ha i dati per la zona gialla visto che siamo tutti ispirati e spinti dal decreto ripartenza, è bene che in modo omogeneo anche se in una regione grande come la Toscana ci possono essere punte a 100 su 100.000 contagiati o in altre zone a 300. su 100.000 contagiati è bene che il territorio e la disciplina sia uniforme, naturalmente con le caratteristiche che dobbiamo ottenere di non abbassare la guardia. Il ritorno della Toscana in zona gialla porta anche le novità del nuovo decreto covid con le varie aperture che avverranno proprio dal prossimo lunedì, come quelle dei ristoranti e bar a pranzo e a cena, soltanto all'aperto, i teatri e i musei, le sale da concerto e i cinema. Ma da lunedì ripartono anche le scuole superiori con il 70% dei ragazzi in presenza. Si partirà in modo graduale, ci sarà naturalmente in ogni singolo istituto una considerazione maggiore per una presenza, diciamo se non al 100% ma comunque a livello alto per quello che riguarda l'ultimo anno, visto che c'è la maturità davanti, e poi progressivamente, gradualmente, anche assestando con il sistema di trasporto pubblico, ci sarà, partendo dal 70%, una tendenza a riportare nelle aule i ragazzi.